Ciao sexy! Oggi facciamo la mia pasta al limone perché mamma mia! Tutto quello che dovete fare è soffriggere l'aglio con olio evo e il succo di un limone per un paio di minuti. Aggiungete panna, la scorza di un limone e prezzemolo. E non dimenticatevi un goccio d'acqua di cottura alla fine per rendere il tutto super sexy.